Massimo, dal tuo personalissimo punto di osservazione, in mezzo al campo, come hai trovato la squadra al tuo rientro? L'ho trovata bene, sembra una farose di circostanza, ma veramente l'ho trovata bene. È una squadra che ogni giorno, ogni settimana, cresce sotto tanti punti di vista. Sono convinto che può migliorare ancora tanto, sul fatto della personalità, sul fatto del coraggio e di avere ancora più consapevolezza dei propri mezzi. È una partita che dal mio punto di vista si poteva chiudere, siamo stati un po' così con il battema, perché eravamo solo 1-0, però l'abbiamo, penso, gestita discretamente, penso, con delle buone qualità, sicuramente. Ecco, alla luce dei risultati di questo ultimo turno, le sconfitte di Bassano e Reggiana, sono tre punti che hanno un significato ancora più importante. In un campionato che è arrivato quasi a un terzo, ed è un campionato comunque ancora tutto da decifrare. È tutto aperto, tutto aperto. Abbiamo, con la vittoria, guadagnato punti sulle prime, che in questo caso sono della classe, e la Reggiana ha perso, e quindi, però, allo stesso tempo, come ci dice il mister, come ci diciamo tra di noi, noi dobbiamo guardare a noi stessi, ai nostri miglioramenti che ogni giorno, come ho detto, ci sono, e adesso pensare solo di scusamente a quanto è un'altra.